E per capire nel dettaglio quello di cui abbiamo appena parlato soltanto in teoria, noi abbiamo incontrato Johnny che è coreano e quindi è un po' la testimonianza di quanto dicevamo l'interesse a livello mondiale per quello che dalla Corte propone agli operatori del settore, ai professionisti del settore. Tu hai un telefonino in mano, uno smartphone, non perché stia chattando ma perché è uno strumento indispensabile proprio per il tuo lavoro scoperto. Allora, oggi questo mondo sta cambiando velocemente, quindi tutte le persone hanno smartphone, quindi noi vogliamo come possiamo controllare macchine di caffè liberamente. Quindi nostra azienda ha creato applicazione perché scorsi cento anni tutte le macchine riuscivano a controllare l'acqua flusso. Quindi noi dovevamo controllare solo macchine di macinatura, polvere di caffè dimensione. Quindi questa nuova tecnologia, come filtro, caffè filtro, noi dobbiamo controllare il flusso dell'acqua. Fate tutto attraverso lo smartphone e quindi questo vi aiuta a lavorare molto meglio e ad avere una qualità di gran lunga migliore. It's better. Make it better. Molto meglio, sì. Molto meglio, vedi? Primo step, io messo 8 secondi, numero piccolo, significa primo step, poca acqua, 5, 6, 7, 8, dopo cambia, aperto. Quindi do più acqua automaticamente, quindi qualsiasi cosa io vorrei perché caffè, prima noi solo usavamo un tipo di caffè miscela, però oggi tutto nel mondo, caffè specialità monorigine, Kenya, Etiopia, Brasilia, Colombia, Salvador, diverso. Ognuno ha delle caratteristiche ed è meglio sfruttarle nella migliore maniera possibile. Infatti, quindi perché quando noi cuciniamo carne, diverso, parte, noi dobbiamo cucinare diversi. Quindi questa tecnologia come mentalità, motivazione uguale, quindi possiamo controllare il flusso di acqua, dipende il caffè, dipende la degustazione. In due parole, anzi in tre parole, a Great Innovation, una grande innovazione. Sì, grande l'evoluzione, innovazione, nuova tecnologia. Passo avanti. E passa attraverso? Passo attraverso dalla corte Make It Better. Grazie.